Siamo qui per raccontarvi un fatto veramente agghiacciante, un tentato furto di una donna che non sappiamo chi è è stato colpito Nonno Faustino da questo agguato che inizialmente sembrava un'effusione di amore ma siamo qui con Nonno Faustino che ci racconterà tutto Cosa è successo quel giorno? Io stavo sotto l'ombrellone davanti al portone di casa, fuori Dopo pranzo come fa tutti i giorni? Dopo pranzo erano le due e mezza Ci dica Stavo nel cancello e vedo questa mola Fausto questo posto è un bel pezzo che la volevo vedere Ah come stai? Sto bene posso entrare? E entra ma Quindi ha provato a entrare verso lei? E si è entrata Ok E' entrata mi si è messa davanti Mi ha preso la mano e me l'ha messa qui sulla pancia Ha allargata la gonna e me l'ha messa tanta la pancia Ma prima ha anche provato a toccare se aveva dell'oro? Prima ha provato a toccarmi così Ah per vedere se aveva qualcosa al collo E se vede lei pertanto cercava quello E dopo? Dopo io la catenina non ce l'ho Non ce l'ho pensato Ma ho preso la mano e me l'ha messa Sulla? Sulla conna giù Sulla? Sulla? E la pancia E poi? E poi mi spingueva questa mano Io credevo di andare più giù Invece lei come dice mi spingueva l'anello E ti voleva togliere l'anello? E mi voleva fregare l'anello ma io lì per lì Non ci pensavo E ho sentito che andava giù L'ho tirata su E lei mi spingueva la mano E giù E voleva fare l'amore anche con lei? Aspetta che lì per lì così Dopo piano piano Lì mi spingueva per levare l'anello Io invece E mi dice crede che mi spingueva che la mano Fa andare sulla s*****a E son lì ho sentito il pelo C***a Dico E lei questa che vuoi fare? E mi diceva andiamo dentro Andiamo dentro Dentro no Andiamo dentro Dentro no O sopra c'ho la moglie Gli ho detto E dopo c'è più giù Eh 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 E dopo Più giù E qui c'è Là? Eh eh c'è la s*****a Oh E poi E poi E poi Ma c***a Tu mi vuoi inculare? Ma no Non è niente Ma c***o Non fare così Ma no Ma c***o Allora c***o Ciao 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 Ma beh Attenzione perché Da oggi Prego Chi è diventato lui? Da oggi Beh Come era ingrifato Lo chiamano SORCAMEN È SORCAMEN 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 Ma stazzi Stamina Voler tutto Tant'è con c***o niente a te Che sei brutto SORCAMEN Quindi Abbiamo fatto questa Ricostruzione Ma state veramente attenti A queste Signore Signore Che cercano di Fregare la roba Oh Mi diceva Ma la facciamo sulle scale Ma la facciamo sulle scale E pensavo io Se facciamo sulle scale Le scale Quindi state attenti Che queste qua Vogliono rubarvi le cose Per tutti gli anziani Quindi Occhio Riguardate questa ricostruzione Perché accade proprio Così È vero? Beh Da me è successo così Vieni qua Filiberto Salutiamo tutti Ciao a tutti Ciao A tutti Daro Calletto Filiberto SORCAMEN Mamanello 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 Eccolo SORCAMEN